Vi leggo brevemente l'abstract dell'incontro, della lecture di Francesco, così un po' inquadriamo l'incontro che sta per iniziare. Come si può trasformare il sound design in un elemento narrativo? Come la musica può diventare indispensabile nel raccontare una storia? Cosa vuol dire creare un paesaggio sonoro interattivo per un videogioco sci-fi? Sono tutte domande che il team audio di Planet of Lana si è posto durante lo sviluppo e che ha portato a definire delle precise pratiche artistiche e tecniche che esplorano non solo il suono e la musica ma anche il game design e la scrittura stessa di un'esperienza videoludica. Di fatto Planet of Lana parla di un'invasione, parla di un'invasione di un pianeta e di questa piccola storia perché poi è una storia molto piccola in un contesto più ampio di questo personaggio che si ritrova solo dopo un'invasione e di fatto tutte le persone stanno venendo portate via appunto un po' la guerra dei mondi, mi ricordo anche il film con Tom Cruise. Devo dire che a me è piaciuto moltissimo il gioco ed è anche il motivo per cui abbiamo qui Francesco oggi. Grazie mille, grazie mille Andrea, grazie mille a tutti e a tutte. Mi chiamo Francesco, sono sound designer, compositore, lavoro insieme a Marco e Andrea, Marco è qui con noi, siamo un collettivo, ci chiamiamo Settete e viviamo a Torino e lavoriamo nel mondo, 95% nel mondo del gaming, io ho lavorato dai peggiori, ho fatto Electronic Arts, ho fatto Ubisoft, ho fatto tanti nemici e poi sono passato dal lato dei buoni o forse dai cattivi, non lo so, dipende e attualmente sì, siamo un po' gli anni che lavoriamo insieme, abbiamo lavorato, quando abbiamo deciso di mettere sul Settete questo collettivo io stavo già lavorando su Planet of Lana e Marco e Andrea mi hanno dato una mano e hanno poi finito loro l'ultima parte della produzione e volevo, vabbè, non so quanti di voi hanno giocato a Planet of Lana ma magari vi faccio vedere, per chi non è familiare col gioco c'è il trailer, così ci guardiamo che dura due minuti. Zia! Grazie a tutti. 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 è successo. Grazie a tutti. 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 qua c'è un piccolo video. Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie 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 a tutti. Buongiorno. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.